Musica Michele Garismachi al 39esimo festival del film del mondo in competizione con il film Girl King Noi però vogliamo parlare del suo amore per Napoli Qual è il tuo amore per Nicoli? Non è solo Napoli, mi piace l'Italia molto e ho vivuto in Italia prima in Roma ma prima di cui ho vivuto in Sicilia in quale città? in Taurumina e in Castelmola in realtà ho scritto un screenplay in Helsinki Napoli l'idea era nascita in Castelmola e ora vivi la maggior parte del tempo in Brasile non solo Rio ma anche il posto di Gorgamato Salvador Rabaglia sì, ho vivuto 15 anni in Rio mi sono andato in 89 anni e 10 anni fa mi sono andato da Rio in Saldabella quindi sono andato in Brasile per 25 anni ma sempre sono andato in Finlandia ho anche un appartamento in Finlandia ma l'attacco principale è in Brasile una grande differenza tra il caldo del tuo paese e il caldo del Brasile sì, è un'interessante mix in molte mani sono due oposti delle culture in Finlandia è molto organizzata e genetica e abbiamo questo casino di Brasile il tuo prossimo obiettivo? il tuo prossimo obiettivo? il mio prossimo obiettivo? sì, ho fatto due anni l'anno scorso ho fatto un film ho fatto un film di cinese un film di cinese un film di cinese e ora voglio Gorgamato anche il film di Gorgamato e poi ho cominciato a qualcosa ho scritto un po' storia ho sviluppato in diverse parti del mondo in Brasile in Finlandia in Germania in Argentina e ho spero che uno di questi progetti in Italia in Italia in Italia in Italia in Italia quindi molti felicità e tutto il resto grazie mille in Italia